Si può valentare il grosso come si vede, solo se ci vediamo uno di quando Dio ha l'amore e cominciamo a riflettere, a restituire qualcosa di questo amore misericordioso, va e anche tutto lo stesso. Cioè quando qualcuno ha bisogno, qualcuno ha bisogno, qualcuno di Dio ti ha ferito, allora diventa segno per lui, per la compassione di Dio. Penso che Dio ha vado a te, come fa con te, e tu fa lo stesso a tutti, diventa un segno di questa compassione verso l'amore e non fare come quei due che hanno tirato il rito. Non hanno tirato il rito perché erano venti e distanti, ma semplicemente perché erano cercati a richiare. Quante volte cerchiamo l'amore, hanno visto il sangue, l'uomo sembrava morto e toccava calcare la paresana per degli uomini, per la diventa di amore, però hanno preferito tirato il rito, hanno preferito delle regole, nasconde il sentito delle regole, piuttosto che viva il cuore del rito. C'è la sua misericordia, la professione di Gesù Cristo, non è capare alla riscusa, tutti ne abbiamo, i stipendi, il nostro padre, la parte piena, tanti modi per pensare a tutti stessi, ma anche per restare padroni, i registi della nostra vita, per invece accettare un orizzonte diverso, due della compassione e della misericordia, tante volte non a orari, non a niente, parlate alle regole, ma anche tutto allo stesso. Questa è la strada per essere felice, avere una vita piena, piena di soddisfazione, realizzata. Tutto il resto, come già provato, non mantiene la promessa. funcione di Gesù Cristo, si trato per pensare, dirà la terrestre a tutti i nostri er ascoltatori. Le pregio di Gesù Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché la Chiesa annuncia i miei testimoni dell'amore del Padre, il solo che può spezzare i legami del male e dell'egoismo, preghiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.